Distretto 33 ha organizzato al Teatro Maggiore una giornata per parlare di energia e di prospettive future. Certo, per parlare proprio di energia e delle nuove opportunità che anche l'Ecobonus 2018 fornirà a cittadini, quindi a privati, amministratori condominali e amministratori pubblici. Vogliamo fare un momento di formazione e informazione. NEV è una società che sta investendo per portare l'energia e l'energia sostenibile anche sul nostro territorio? Assolutamente sì. Diciamo che Nuova Energia è una società che nasce agli inizi degli anni 2000, 2003 per l'esattezza, a seguito delle liberalizzazioni nel sistema delle energie. È nata come iniziativa locale a carattere totalitario pubblico. Il 70% in mano, il 30% è privato. Quali sono le nostre aspirazioni? La nostra aspirazione è quella di crescere. Stiamo crescendo molto nel territorio della Lombardia ma anche a livello nazionale. L'Unione Industriale del VCO ha sostenuto questa giornata e la patrocina. Sì, abbiamo patrocinato questa iniziativa che parte dal distretto 33 con cui abbiamo rapporti di grande collaborazione già da alcuni anni. Insieme a noi vorrei sottolineare che ci sono anche le amministrazioni pubbliche sia di Verbagna che di Omeglia. Questa cosa ci riempie di soddisfazione perché l'importante è che se ne parli di queste cose. Se ne parli, si acquisiscono informazioni, sia conosciuto per le aziende, nel nostro caso, ma anche per le attività private, tutto quello che questo tipo di iniziativa può dare. Il Comune di Verbagna segue con attenzione il tema dell'energia. È un tema sempre più attuale. Se pensi agli immobili pubblici che hanno tutta la necessità di adeguarsi alle nuove norme, noi come Comune abbiamo approvato ormai da due anni il PAES e quindi stiamo cercando di mettere in atto sia interventi di finanze di progetto che comunali per far sì che anche gli edifici pubblici siano adeguati ai tempi che viviamo. Grazie a tutti.